Buonasera a tutti, ben ritrovati. Don Ernesto adesso faceva questo, sembrava un gioco di parole, no? Tra parola e parole. E diceva che effettivamente ascoltare la parola per poi annunciare attraverso le parole è l'importanza anche di una parola. E pensate, noi a un certo punto durante la Messa diciamo, Signore, di soltanto una parola io sarò salvato. Veramente basta una parola per essere salvati, non bastano chissà quante parole. E sappiamo quella parola dove lì si fa riferimento, quella parola poi è Cristo stesso perché Lui poi è la nostra salvezza. E poi è Cristo che, come ci dice San Giovanni nel suo Vangelo, la parola, il verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Quindi è la parola che si incarna perché le parole, per essere veramente parole, hanno bisogno di un corpo. Ne potremmo dire tutte le parole di questo mondo, anche le più belle, quelle che poi diventano anche le canzoni, no? Quelle canzoni come ci piacciono, puoi cantarle, come sono belle. Pensate soprattutto agli adolescenti, giovani, agli innamorati, si dedicano alle canzoni. Però resta una canzone, fin quando quello che lì è espresso in quel testo, poi la persona non cerca poi di farla diventare carne. E come stiamo vedendo, abbiamo visto il mese scorso e come vedremo anche questa sera, se il contatto con il Vangelo, come anche pensate il Vangelo domenica scorsa, che è lo stesso un po' come anche quello che abbiamo ascoltato questa mattina e che è partecipata a messa oggi, è come una parola che è pesante. Vedete, il gua è il nostro, sapete qual è? Che noi purtroppo alle parole non diamo più senso. Noi usiamo le parole come se niente fossero. Le parole sono delle pietre. Le parole, noi dovremmo fare attenzione a quando usiamo delle parole. Anzi, vi ricordate che una volta, quando si faceva un contratto, lo si faceva sulla parola. Ti ho dato la mia, la parola d'onore, si diceva una volta. Oggi dove sta più la parola d'onore? Oggi ci prendiamo in giro attraverso delle bugie, attraverso delle menzogne, che usiamo delle belle parole e ci nascondiamo di quelle belle parole. Pensa ad esempio, ad esempio, quanto possa essere facile fare quello che sto facendo in questo momento. Perché in questo momento vi dico delle parole. E voi potete dire, perché molte volte lo dite, no, che belle cose che ha detto. Però capite che i vostri orecchi certamente giungeranno forse come belle, ma saranno vuote in me se a queste parole poi non darò seguito. Se avrò fatto una lezione e finisce lì. Quello che vedremo adesso in questo passaggio, nel brano di questa sera, non si tratta tanto di sapere una lezione o sapere qualcosa in più su Gesù Cristo. Noi non stiamo qui per sapere qualcosa in più su Gesù. Non stiamo qui per aumentare la nostra conoscenza intellettuale, ma stiamo qui per capire come in questa nostra vita noi possiamo essere discepoli ancora oggi di Gesù. Essere discepoli significa seguirlo. E non si seguono le idee, si segue una persona. Io non posso innamorarmi di un'idea, ci si innamora di una persona. E questa persona diventa così in realtà concreta. E quale persona ci si scontra anche, non è che ci si incontra solo. Tu la pensi in un modo o la pensi in un altro modo? E lo vedremo ancora proprio nei Vangeli, quando a un certo punto vi ricordate le incomprensioni che ci sono tra Gesù e la gente. Le incomprensioni che ci sono tra Gesù e i discepoli. Ne ho portato pure qui. Se tra noi e Gesù va tutto bene, non ci sono incomprensioni, così come in un rapporto familiare tra marito e moglie, tra fidanzati, come va tutto bene? Non va niente bene allora. È tutto falso. Così con Gesù non ci illudiamo. Se diciamo va tutto bene, non è vero. Stiamo incontrando noi stessi. Dice un salmo, l'empio si illude con se stesso nel ricercare la colpa e detestarla, ma si illude con se stesso nel fare così. Con Gesù, a un certo punto, dobbiamo dire, come ripeto domenica scorsa, dobbiamo dire, signore ma che stai dicendo? Perché vi ricordate proprio come finiva il Vangelo domenica scorsa? E servo inutile, gettatelo fuori dove sarà pianto e stridore di denti. Io non so se a voi ha dato fastidio quella frase. Come il Vangelo di oggi diceva, ripeto, oggi parlava delle mine, dei denari, dice la stessa cosa, no? Luca parla così, invece Matteo parla dei talenti. Alla fine lo diceva così. E quelli che non volevano che regnassi, portateli qui e uccideteli davanti a me. Ma Gesù, tu prima parli di pace, ma adesso parli di un uccidere davanti a te. E questa cosa non la condivido. E noi dovremmo avere il coraggio di dirlo e non lo condivido questa cosa, perché quel terzo fannullone della parabola di domenica, il terzo servo di oggi, è proprio questo il rischio, che non hanno contrattato con il Signore, cioè non hanno osato. Noi con Dio, vedete, noi non osiamo. Noi con Dio non portiamo avanti le nostre petese. Anche se sbagliate, ma noi non le portiamo avanti. Noi abbiamo insegnato, ci hanno insegnato anche, che tu se in questa cosa credi, tu la devi portare avanti. Poi casomai ti faranno capire che non è così, loro lo capiranno, va bene. Però fin quando tu credi in quella tesi, tu le porti avanti. Non è giusto che certe situazioni avvengano nel mondo, d'accordo, ma di queste ingiustizie, quante di queste ingiustizie noi ce ne facciamo carico e le presentiamo con insistenza davanti a Dio? Quando sentiamo qualche dolore ingiusto, così, semplicemente facciamo una preghiera per quelli che soffrono e finisce lì, o effettivamente noi battiamo i pugni? Non lo so, Ernesto, tu in chiesa i banchi sono tutti lisci, oppure hai visto qualche bagno che hai preso dai pugni? No, sono tutti quanti lisci. E vedete, veniamo in chiesa, stiamo ben con le mani giunte, le mani composte, ci mettiamo in ginocchio, così, poi usciamo, eh. Siamo troppo educati con il Signore. Il Signore non ci vuole troppo educati, ci vuole un poco scostumati per quanto riguarda i fratelli, il bene dei fratelli. Farci carico, essere intercessori, proprio questo, farsi carico e portarli sulle spalle, guardate, è pesante, non è facile. Quando eravamo bambini, no, si giocavano, uno sulle spalle dell'altro e faceva la lotta con l'altro. Poverini, chi stava sotto? Chi stava sopra? Va bene. Noi stiamo chiamati a stare sotto, perché uno si è messo sotto insegnandoci a metterci sotto. Ecco perché allora stiamo qui, per imparare questo, per avere la consapevolezza di come si allontana ancora la nostra vita. Però vogliamo avere questo desiderio, almeno ci sia il desiderio. Vi ricordate, già l'ho detto qualche altra volta, no, proprio il mese scorso, perché era, se non ricordo male, era proprio la festa, le memorie di Sant'Ignazzo di D'Antiochia. Ve la dissi già di questo vescovo martire, avanti negli anni, superati i 90 anni, mentre sta per arrivare a Roma per morire, essere mangiato dalle fiere, lì, a un certo punto dice, adesso inizio ad essere discepolo. Capite? Adesso inizia ad essere discepolo. Mamma mia, ero un vescovo. E lì finisce per essere, in quel momento capisce cosa significa essere discepolo. Purtroppo, diciamo la verità, molte volte dentro di noi abbiamo un poco di presunzione. Abbiamo presunzione perché stiamo in un gruppo, facciamo parte, stiamo nel gruppo parrocchiale, andiamo ogni domenica in chiesa, facciamo parte di quel movimento, con l'associazione e questo è un po' di presunzione poi dentro di noi. Nel momento in cui noi potremmo dire a noi stessi, vabbè, non ne ho bisogno, c'è una catechesi, non ne ho bisogno, c'è un momento di formazione, non ne ho bisogno, in quel momento noi siamo falliti. Ci siamo, ci consideriamo già a posto e siamo completamente lontani dall'essere discepoli. Ci siamo messi al posto del maestro in quel momento. Allora, la capacità di sapere che siamo in formazione continuamente, fin quando un giorno staremo davanti a Lui e lo vedremo faccia a faccia. E allora quella formazione sarà completa e sarà piena. E chissà quante sorprese avremo quel giorno, che ci immaginiamo una cosa e poi ne troveremo un'altra. E la sorpresa che poi è il Signore, quello che ci sorprenderà sempre. E lasciamoci sempre sorprendere dal Signore. Bene, il mese scorso iniziamo con l'Evangelista Marco, che è l'Evangelista che incontreremo non domenica prossima, ma dall'altro domenico, quando inizieremo il nuovo anno liturgico. Ricordate che diciamo che Marco è il più piccolo dei Vangeli. Questo fatto di essere il più piccolo nella storia della Chiesa, purtroppo, non gli ha riservato un bel posto. Perché questo fatto di essere il più piccolo è stato considerato come una sintesi, un riassunto degli altri evangelisti. E quindi è stato sempre messo da parte, anche nei commenti. I primi commenti, vi ricordate, iniziarono intorno al IX secolo. Quindi ha avuto non una bella fortuna il Vangelo di Marco. Poi grazie a Dio è stato scoperto che addirittura è il primo dei Vangeli. Quindi gli altri due si sono rifatti a Marco, hanno ampliato mettendo anche poi il proprio. Quindi il Vangelo più antico che noi abbiamo è quello di Marco. Quindi potremmo dire che è una delle testimonianze più antiche. Abbiamo detto anche, se vi vedete, che Marco non è uno dei dodici apostoli, ma un evangelista. Noi dobbiamo distinguere sempre, lo sapete, no? Abbiamo i discepoli, gli apostoli, che sono i dodici, che sono gli unici che hanno fatto un'esperienza particolare e non ci saranno mai più sulla Terra come quei dodici che hanno fatto un'esperienza particolare. Poi abbiamo il successore degli apostoli, che sono i vescovi. Quindi abbiamo i discepoli, gli apostoli e gli evangelisti, che sono quattro. Di questi quattro, due erano anche apostoli, Giovanni e Matteo. Altri due, invece, non erano apostoli e sono Marco e Luca. Marco, quello che stiamo vedendo noi in quest'anno, era discepolo di Pietro e Luca discepolo di Paolo. Quindi discepolo di Pietro, capite, ha una testimonianza diretta proprio, perché Pietro era il discepolo, l'apostolo proprio scelto dal Signore Gesù, che vedremo adesso, uno dei primi che è stato chiamato. E quindi Pietro ha raccontato a Marco quello che lui ha vissuto, l'esperienza che lui ha fatto. Quindi non è semplicemente un sentito dire di uno che gli ha detto qualcosa, che gli aveva detto un altro. Senti, è proprio la testimonianza di un testimone diretto, diremmo di un testimone oculare, di quello che ha visto come stavano i fatti. Direbbe San Giovanni, nella sua lettura, ciò che i nostri occhi hanno visto, ciò che i nostri orecchi hanno udito, ciò che le nostre mani hanno toccato, questo annunciamo a voi. Ecco, ciò che Pietro ha visto, ha sentito, ha toccato, l'ha annunciato. Marco stava lì, ha sentito e ha messo per iscritto e ha composto il suo Vangelo. Abbiamo anche detto, se vi ricordate, che Marco scrive per chi? Scrive per i catecumeni, quelli che si stanno avvicinando a diventare cristiani. Non sono cristiani, ma stanno facendo il cammino di formazione per diventare cristiani. Quindi, non è vero che siamo già cristiani, però in certo qual modo anche noi stiamo continuando in questa conoscenza di Gesù Cristo. E quindi Marco scrive questo Vangelo per coloro che stanno scoprendo la figura di Gesù. Quindi è un Vangelo che va bene anche per noi, anche se siamo cristiani fin da quando eravamo bambini. E stiamo vedendo, ma sempre, e io vi lancio questa sfida, adesso leggeremo Marco, l'anno scorso Matteo, poi, piacendo al Signore, caso mai si leggerà anche Luca, e se tra due anni o tre anni noi riprendiamo Matteo o Marco, non dico che queste cose che diciamo in questi incontri le avremo dimenticate, però ascolteremo quelle cose tra due o tre anni come se fosse una volta, perché tra due o tre anni saremo noi che saremo cambiati. Avremo altre esperienze nella nostra vita. Forse saremo più santi o saremo meno santi. Saremo più vicini al Signore, un poco più lontano da Lui. Quindi in base a quel momento della nostra vita, questa parola che è la stessa così nel testo, ma dentro di noi avrà una risonanza diversa. E quindi questa conoscenza di Cristo Gesù. E guardate il mese scorso, ci siamo addentrati, la prima figura che stava da nostri occhi è Giovanni Battista. Giovanni Battista perché è colui che annuncia, colui che prepara. E Giovanni Battista ci ricorda che cose in modo particolare. E vedrete che noi inizieremo l'Avvento con l'Avvento. Giovanni Battista è uno dei protagonisti insieme a Isaia e a Maria, alla Madonna. Giovanni Battista dice di prepararci all'allenuta del Signore. Quindi prepararsi significa un'attesa. Non lo dimenticare mai, l'atteggiamento dell'attesa è l'atteggiamento più importante per il credente. Vivere di attesa significa vivere di qualcosa che so che si deve realizzare, qualcosa che deve venire. E se sono proiettato verso questa realtà, questa cosa che deve venire, io sono vivo. Perché l'attesa, se è vera attesa, coinvolge tutta la mia persona, pensieri, parole, azioni, tutta la mia persona è coinvolta verso questa realtà che ha da venire. Ogni celebrazione eucaristica, vedete, dovrebbe iniziare con l'attesa del nostro cuore. Anche qui noi a Messa sappiamo la Messa come va a finire. No, perché alla fine arriva la Comunione. Però noi dovremmo arrivare a Messa con l'attesa di arrivare alla Comunione. Pensate se a un certo punto noi dicessero ok, alle 20 c'è la cena, e quindi alle 19.30 iniziamo a dovere un poco fame, un'altra mezz'ora dobbiamo aspettare. Immaginatevi se facciamo l'incontro di catechesi e la catechesi si prolunga un pochino in più e si fanno le otto e un quarto e noi iniziamo a dire mamma mia, questo quando finisce? Qua dobbiamo mangiare. È ancora un po' più lungo, le otto e mezza. Il desiderio di mangiare, la voglia di mangiare, il bisogno di mangiare accresce sul fatto che possa finire questa catechesi. Ma non tanto perché definire, perché definire. Definire perché dobbiamo mangiare. Immaginate se fosse così anche durante la Messa. Il desiderio. Perché se non c'è il desiderio di mangiare durante la Messa, noi potremmo fare tutte le comunioni di questo mondo, ma se non c'è il desiderio di mangiare, quella comunione non serve a niente. Se non c'è il desiderio di mangiarlo, io sono il pane della vita, chi mangia di questo pane vivrà in eterno, capite? Se non c'è il desiderio di mangiarlo, allora l'attesa, il desiderare. Mamma mia, l'omelia oggi è stata più lunga. Ma non perché è critico che è stata più lunga, perché si è allungato di più il tempo per fare la comunione. Allora poi capisco che quell'omelia è per farmi capire ancora di più, di accendere ancora di più il desiderio poi di fare la comunione. Allora capite? Non è più il discorso devo assolvere il precetto, perché se è così mi vado a cercare la messa che dura il più breve tempo possibile. E insieme alla comunità come vivere e sedersi alla stessa mensa. Perché lo sapete, non c'è il momento più bello di condividere la tavola con qualcuno che noi consideriamo amico. Tanto è vero, una delle cose che dice sempre agli amici, e a qualche volta vediamoci a cena o vediamoci a pranzo. E siccome vedo che voi volete molto bene a Don Ernesto, che vediamoci a cena e vediamoci a pranzo, forse dovreste dire a un certo punto no, non vediamoci più né a cena né a pranzo. Una parca colazione, quale si male. Vedete, Gesù non è che si è inventato chissà che cosa. Gesù ha visto l'esperienza umana e in quell'esperienza umana lì ha dato il senso in più che noi cogliamo. Ricordate, no, che domenica fa parlava del banchetto, il vino. Quindi è quello che effettivamente sta lì e che loro già vivevano ordinariamente. adesso Gesù dice quella cosa in più particolare per leggere quel segno diversamente, per darci quel di più che poi deve contraddistinguere, per trovare appunto quel senso. Allora, il desiderio è che c'è il compare Giovanni Battista, perché Giovanni Battista annuncia verrà uno dopo di me e noi questo uno che verrà dopo di lui è già venuto però noi lo attendiamo ancora che verrà, non lo dimentichiamo questo. e Gesù è venuto e Gesù verrà. Noi lo diciamo durante la messa, no, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il Salvatore il nostro Gesù Cristo. Cioè, noi viviamo del fatto che lui deve venire un'altra volta, ma lo stiamo aspettando veramente o no? E noi lo dobbiamo aspettare veramente. molti usano quando fanno la preghiera personale che c'è chi fa le lodi e chi fa i vespri, no? Quando fanno questo momento di preghiera a casa in modo particolare lo fanno accendono una candela e quell'accensione di quella candela integrano questo desiderio di attesa. La candela che arde si consuma però man mano, no? Ecco Signore è il mio cuore la mia vita che si consuma attendendoti e mentre prego illuminato poi da questa candela. venga il tuo regno diciamo nel Padre Nostro e quindi Marco mette al inizio Giovanni Battista proprio ricordarci questo che Giovanni prepara questa venuta è già venuto ripeto quindi non è che adesso ne facciamo finta non è che Gesù adesso il 25 dicembre verrà di nuovo facciamo finta che Gesù nasce un'altra volta no, non nasce un'altra volta è nata una sola volta ma io rivivo rivivo io di quella sentazione quel bisogno per dire che forse è dentro di me che deve nascere sono io che devo nascere come cristiano sono io che devo nascere come figlio di Dio perché è venuto sulla terra il figlio di Dio dicendomi che io sono stato fatto figlio anch'io quindi chi è che deve nascere io come figlio di Dio guardando lui imparo come essere figlio di Dio e attenzione perché non è che divento figlio di Dio perché inizio a fare i miracoli allora fin quando fare i miracoli sarò figlio di Dio allora ho capito non è quello il banco di prova sapete qual è il banco di prova che sono stato figlio di Dio se vivo la mia umanità perché Gesù Cristo qui ci rivela la sua umanità tanto è vero di ricordare la prima scena che abbiamo visto la volta scorsa il battesimo Dio ha atteso duemila anni per mostrarsi come come uno che si mette in fila per i peccatori certo ci ha avuto duemila anni per pensare questo capite la terra che l'aspettava il popolo che l'aspettava questo messia che deve venire allora immaginate l'attesa immaginate non dice deve venire un grande personaggio noi già dicendo così ci mettiamo una persona alta poca è una persona così dimessa umile così piano piano così come si rende capite il nostro occhio le sta un poco male perché noi siamo abituati anche a vedere con l'occhio non la grandezza noi abbiamo fatto le processioni equalistiche noi abbiamo fatto gli ostensori quelli anche più grandi perché l'ostra piccromono ci basta neanche più noi facciamo i presepi che sono belli ma voi capite qual era una grotta che c'era nella paglia andavano a mangiare il buo e l'asinello gli animali mangiavano là dentro è perché siamo malati di grandezza perché abbiamo bisogno noi di dire questo forse per giustificare per giustificarci allora ed ecco in quei giorni Gesù venne da Nazareth in Galilea fu battezzato da Giovanni e Giordano dove stavano gli altri peccatori in fila e questo Dio che compare sulla scena qui con Marco perché sapete Marco non ha la nascita come ci presenta la nascita del figlio di Dio come si presenta Dio in mezzo ai peccatori e vi ricordate come morirà alla fine questo Gesù figlio di Dio in mezzo a due peccatori e due ladroni lì sulla cruce e vedete tutto sta qui allora capite la mia conversione quale deve essere capite come cogliere allora questa presenza di Dio allora già devo iniziare a cambiare idea già devo iniziare a cambiare mentalità già devo iniziare a dire che se questo Dio lo voglio incontrare non lo potrei incontrare tra le stelle se questo Dio lo voglio incontrare devo iniziare a incontrare in mezzo ai peccatori però attenzione non in mezzo ai peccatori che siete voi ma in mezzo ai peccatori che sono anch'io perché noi abbiamo sempre pure questa tentazione gli altri gli altri io con gli altri perché Gesù quello che ci fa capire è che Dio si fa solidale con l'uomo la solidarietà è questa diceva qualcuno la solidarietà è che se fanno male a te il dolore lo dovrei sentire io però per poterlo sentire io il dolore tra me te ci deve essere una comunione fateci caso se c'è una comunione tra due persone se c'è un interesse tra due persone io posso dire non mi sento bene però se una persona mi conosce si rende conto dalla faccia se io sto bene o sto male si rende conto dalle mie espressioni anche dal mio modo di parlare io che sentimenti sto vivendo perché? perché c'è una comunione tra me e lui il Signore è così solidale con gli uomini che si mette in fila in mezzo agli uomini non si mette al di fuori al di sopra degli uomini noi purtroppo molte volte abbiamo questa tentazione noi ci mettiamo al di sopra degli altri molte volte il giudizio noi lo facciamo uscire fuori non significa che l'altro non ha sbagliato ma il giudizio attenzione che non è la correzione perché si corregge l'altro mettendosi a fianco all'altro Gesù ha corretto Gesù non è che se messo è stato solidale con l'uomo peccatore però non ha mai detto vicino al peccatore hai fatto bene il tuo peccato continua a farlo così ha sempre detto vai a non farlo più mettendosi a fianco a lui anzi caricandosi di quel peccato sulle sue spalle allora ritorniamo a non essere discepoli ecco la parola che è pesante è la parola che dice un momento ma questa cosa qua diventa un pugno per me perché poi come adesso leggeremo ancora tra poco speriamo lasciamo leggere qualcosa come leggere tra poco se non provoca provoca qualcosa dentro di me la parola non l'avrò ascoltata io lo dico spesso ai fedeli durante la messa domenicale se non usciamo dalla chiesa con un poco di situazioni di disagio allora no ci siamo vedete capite ci siamo lasciati così che bello carezzare non fa sempre bene la carezza ci sono dei momenti in cui il Signore viene a bisogno della carezza lo vedremo ancora qui adesso stasera però c'è pure il bisogno di dire che quella carezza a un certo punto però mi devi provare un'altra cosa perché ancora di più il servono vi ricordate quel denaro quel talento non l'ha fatto fruttificare a fondo per sé è come se dicessimo che bello Gesù sta nel mio cuore e finisce lì e su tesoro quando lo fai quando c'è l'interesse quando è che lo metti in commercio quando è che questo dono lo fai fruttificare nella condivisione con gli altri o pensiamo che l'essere cristiani sia significativamente io e lui lui e io essere cristiani io e lui ma insieme agli altri la comunità perché adesso che Gesù vediamo che chiama Simone e Andrea Giacomo e Giovanni li chiama due cioè dice che cosa un modo di essere in comunità non singolo è una chiamata personale ma quella chiamata personale all'interno di un complesso comunitario tant'è vero che di là poi ne costituì dodici e con i dodici poi a questo rapporto e poi dopo addirittura non basteranno settantadue i discepoli e poi addirittura dirà l'apocalisse che il numero degli eletti erano centoquarantaquattromila e poi aggiunge è una moltitudine immensa che nessuno poteva contare però se io mi tengo per me questo tesoro ma come l'altro potrà arrivare a Gesù Cristo dice ma ci pensa Gesù Cristo non è vero che ci pensa Gesù Cristo perché gli altri sono arrivati a Dio perché ci sono stati dei profeti nei tempi antichi poi quando il motore ha messo i tempi ha mandato suo figlio che è la finezza quindi Gesù Cristo ha fatto conoscere Dio agli altri e devo essere io oggi a farlo conoscere agli altri però se io mi tengo la mia fede me la tengo per me e la tengo nel mio cuore perché dico che la fede è un atto personale e intendo un rapporto personale tra me e lui voi capite è finito tutto è un atto personale ma perché è della persona che pone in essere il suo atto ma non un atto personalistico individualistico egoistico lasciamoci provocare da questo chiediamocelo questo io questo dono che ho scelto dal Signore penso che ve l'hanno spiegato loro durante l'omiglia no i doni non sono come i bambini ci insegnano che sono i talenti io so cantare e io so parlare questo io so fare questo o suonare queste sono disposizioni personali i doni se vi ricordate è la vita stessa di Dio perché dice il testo se vi ricordate il Signore il padrone fece ai servi i suoi doni sono i suoi non i nostri quindi quei suoi che poi attraverso le nostre corrispondenze personali ma sono i suoi doni e io i suoi doni sono la sua vita l'essere credente per noi l'essere presbiteri sono i suoi doni mica sono meriti nostri e io questo devo far fruttificare ma li ho fatti fruttificare allora io dicevo quante messe fino ad oggi abbiamo partecipato noi e di quelle messe che ne abbiamo fatto quanta parola anche a questi incontri noi fino ad oggi abbiamo ascoltato e di questa parola che ne abbiamo fatto perché se non l'abbiamo condivisa siamo come il terzo servo Signore ho avuto paura ma ecco qua te lo do e signore ti è tanto piacere sei pigro sei inutile terribile inutile non utile e noi le cose inutili che facciamo a casa le gettiamo e noi ci amiamo a chiedere se come cristiani fino ad oggi siamo stati inutili il Papa Francesco su questo ci sta battendo tantissimo quando parla vi ricordate cristiani da salotto ci siamo troppo accomodati vabbè pensano loro pensano i sacerdoti pensano gli altri no non è che pensano gli altri devo pensare io per questo il Signore mi ha chiamato mi ha ritenuto degno di affidarmi i suoi doni se mai non ne sono capace non sarei capace di fare nomelia ma sarei capace di fare un'altra cosa pensate che io sono capace di fare tutto vorrei essere capace di fare tutto io come lui o gli altri siamo capace di fare qualcosa qualcosa che forse voi non sapete fare ma come noi qualcosa che sapete fare voi non lo sappiamo fare noi ma quella deve essere condivisa e può essere condivisa non è neanche il fatto che devo dire lo faccio devo dire ogni cosa e dire lo faccio perché c'è Gesù o non c'è Gesù a un certo punto l'altro coglierà qualcosa di quello che stiamo facendo e ce la porrà a domanda ma verrà la domanda e se non dovesse venire non fa niente perché se avevano fatto del bene ma in cui si fa del bene inevitabilmente esce fuori quindi Gesù questo è Dio meglio ancora questo è questa realtà che sta lì in mezzo capite è portavita nuova portavita diversa vita diversa c'è possibilità che le cose non cambiano esternamente ma cambia il mio modo di rapportarmi a quella cosa vedete anche una malattia non cambia cambia il mio modo di rapportarmi davanti alla malattia se capisco che c'è questa solidarietà di Dio cambia il mio modo di rapportarmi davanti a un dolore anche davanti a una sciagura mentre venivo qui sentivo la radio intanto sento la radio Maria oggi sentivo una signora che diceva che lei a un certo punto non so quanti anni adesso mi ricordo dice che lei aveva assistito una sua zia fino a 98 anni lei non è sposata dice poi verso la fine dei miei anni così è arrivata anche una malattia adesso sono ipovedente non riesco a vedere dice però mi aspettavo qualche ricompensa dal signore capite? questo vado al supermercato vado al mercato faccio un contratto per avere cioè io ti do mi sacrifico verso questa persona faccio la beneficenza faccio le preghiere vado in chiesa e quindi quindi e quindi di là automaticamente il signore poi mi deve un po' di ricompensa un po' non di cassero ma un po' che ricompensa me la deve dare è un interesse questo capite no? dice il salmo 62 la tua grazia il signore vale più della vita e quando san paolo parlerà con il signore di essere liberato da questo pungolo che ha nella carne il signore gli dice ti basta la mia grazia lui vuole essere liberato san paolo san paolo non sto parlando di me san paolo e chiede di essere liberato di questo pungolo e il signore ti basta la mia grazia ci basta la grazia di Dio chiediamocelo con molta umiltà ce lo chiediamo ma mi basta la grazia di Dio o vorrei un poco di soldini un poco di salute un poco di tranquillità un poco di pace quello è quello e venne la voce dal cielo tu sei il figlio mio l'amato in te mi sono compiaciuto vedete questa voce del padre sei il figlio mio l'amato in te mi sono compiaciuto mi compiaccio sei quello che amo dall'eternità questo rapporto padre figlio e spirito santo dall'eternità come Dio a entrare nella storia in questo modo così sconvolgente e in questa realtà così sconvolgente tra i peccatori dove Gesù si fa solidare con loro il padre che dice del figlio sì figlio mio io ti amo in te mi compiaccio anche di questa scelta che hai fatto e qui è la scena del battesimo e nel battesimo questa parola risuona anche per noi chi siamo noi il figlio amato ma non è Gesù sì quindi noi chi siamo siamo come lui il figlio amato ora sta a noi che le nostre scelte possano essere scelte che possano compiacere il Signore capite c'è una differenza perché noi saremo gli amati per sempre la compiacenza adesso sta a me dagli questa realtà di compiacenza e da qui dal battesimo inizia la vita pubblica di Gesù quindi scompare sulla scena del mondo dove svilupperà tutto ciò che nel battesimo lì è avvenuto quindi il suo essere figlio amato e manifesterà il suo essere figlio amato da Dio quindi come essere figlio di Dio lì come manifesto in mezzo e solidale con gli uomini è quello che svilupperà in tutto il Vangelo Marco dopo questo fatto del battesimo dove diremmo ah che bello finalmente dopo il battesimo adesso andiamo al ristorante e festeggiamo che succede? c'è subito una scena che è ancora qui è in contrasto oppure ancora questa scena sembra dirci che le cose non vanno come noi ci aspetteremo perché dice subito il testo e siamo al versetto 12 del primo capitolo siamo al versetto 12 vedete come è ricca la parola di Dio e subito lo spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana stava con le bestie selvati che gli angeli lo servivano questo è il Vangelo che noi scotteremo la Quaresima se vi ricordate il Vangelo delle tentazioni però avete notato che Marco non ha le classiche tre tentazioni se hai fame di che questi mi diventino pane prostati ai miei piedi e tutto ciò ti darò buttati giù manderei i suoi angeli a prenderti le tre tentazioni che ci presentano Matteo e Luca Marco non ce l'ha è molto sintetico dice semplicemente che nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana forse Marco ci fa capire una cosa è quello che noi poi inizieremo a leggere che le tentazioni come noi molto volte possiamo pensare o immaginare per Gesù come anche per noi non è che la tentazione c'è una sola volta e basta la tentazione è continua e anche per Gesù la tentazione è stata continua anzi subito dopo leggendo c'era una tentazione quando a un certo punto ripeterà Signore ma tutti quanti ti cercano e tu mi vieni qui a pregare e Gesù dice andiamoci in altrove la tentazione lo sappiamo mostrarti una realtà che all'apparenza è buona perché scusatemi se il demonio viene a presentarmi una tentazione come una cosa negativa ma chi di noi è così stupido che ci cade il demonio non è stupido noi siamo stupidi certe volte il demonio non è stupido questo è certo è astuto e quindi il compito suo è presentarci la tentazione facendocela apparire bellissima è l'unico modo per non cadere in questa tentazione veramente è avere gli occhi aperti e questi occhi aperti si hanno proprio come Gesù perché se come si è figli si è sotto lo spirito in questo rapporto con il padre continuo è solo in questa unione di rapporto e di preghiera con il padre che la tentazione può essere smascherata battene Satana e quindi lo spirito lo spinse nel deserto tenete presente il deserto noi abbiamo fatto un po' con le esperienze del ritiro vi ricordate è vero che insomma non è che abbiamo fatto un vero e proprio deserto però ci siamo dati per lo meno anche 5-10 minuti un poco di silenzio provate a pensare il deserto vi accennai la volta scorsa che partivo per la Terra Santa la settimana scorsa non ho rientrato la Terra Santa e abbiamo attraversato il Giordano la Giordania con zone desertiche guardate è stancante perché non c'è niente è stancante pure agli occhi perché vi diceva la stessa cosa sì la strada in mezzo ci sta e adesso immaginatevi a quei tempi lì e nel deserto tu sei da solo con te stesso e nel deserto provate a pensare anche Gesù in questo rapporto con il Padre anche nel chiedersi come io devo essere tuo figlio dal deserto Gesù poi inizierà la mission l'attività infatti inizierà a chiamare i discepoli come dovrò io svolgere questa missione perché non è automatica la cosa credo di non dire nessun eresia Gesù ha imparato a fare l'uomo perché lui sapeva fare Dio in quanto verbo incarnato ma incarnandosi ha imparato a fare l'uomo come noi noi impariamo a diventare uomini Gaudium et Spessa numero 22 dice che l'uomo guardando a Gesù Cristo l'uomo perfetto scopre come essere uomo guardando a lui e quindi lo spirito attenzione perché dice il testo lo spirito lo spinse nel deserto perché è lo spirito che ci mette alla prova è quasi a dire no hai fatto questa scelta ma questo è il prezzo che devi pagare della scelta che hai fatto è fatta la scelta non è che è la strada in discesa hai scelto di mettere in mezzo ai peccatori solidale con loro ma assumiti tutte le conseguenze di esserti messo in mezzo e solidale ai peccatori e quindi vuol dire che direbbe papà Francesco ti inizia a sporcare pure tu però se poi non ti vuoi sporcare e allora che hai fatto hai fatto solo finta se ti vuoi iniziare a mettere i guanti allora non va bene e quindi lo spirito lo spinge nel deserto e nel deserto rimane 40 giorni e i 40 giorni sono i 40 anni del popolo che cammina nel deserto per rientrare nella terra promessa sono i 400 anni di schiavitù il numero 40 in genere indica una generazione quindi è una vita che passa e quindi capite in questi 40 che cosa dice in questi 40 giorni dove Gesù si trova all'inia il deserto e questo deserto tentato da Satana stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano e qui dovremmo leggere un po' di Isaia perché Isaia a un certo punto dice così lo ascolteremo a Natale il lupo dimorerà insieme all'agnello l'orsa pascolerà con il bue il bambino metterà la mano nella buca dei serpenti sapete capite è una scena bellissima il leone e l'agnellino il leone se lo mangia l'agnellino eppure dice che in quella realtà di paradiso il leone sarà insieme con il lupo capite stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano il paradiso Adamo che esce dal paradiso perché vuole usurpare essere come Dio Gesù invece che si trova in questa di paradiso non perché lo usurpa perché mettendosi in questa realtà di essere uomo nuovo tu sei il figlio mio l'amato il prediletto in te mi compiaccio capite? come ancora una volta la logica è completamente diversa non l'usurpare ma il dono non il pretendere ma l'accogliere cambia tutto non la mano che rapisce la mano che si stende e la mano che stende così è la mano del povero dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo qui abbiamo uno spostamento qui improvviso dopo che Giovanni fu arrestato certo il testo non ci dice perché Giovanni è stato è stato arrestato noi sappiamo che cosa succede ricordate che c'è la figlia della moglie del fratello che lui teneva con sé e Giovanni gli diceva non è lecita tu non la puoi tenere perché è la moglie di tuo fratello non è tua moglie e quindi dava fastidio Erodiade la compagna diremmo noi di Erode gli dava si distagosi Erode temeva Giovanni invece Erodiade no poi quando ci fu il compleanno di Erode vi ricordate esce Salome la figlia di Erode balla Erode resti invaguito del ballo di Salome e dice nella sua pazzia chiedimi quello che vuoi anche in metà del mio regno ma io ho accasso un po' pizze quello va dalla mamma che cosa devo chiedere l'occasione dammi la testa di Giovanni Battista Erodi chiaramente ha fatto una promessa e gli porta questa testa di Giovanni Battista quindi per questo fatto che Giovanni diceva le cose come stavano diceva in faccia le cose Erode lo mette in prigione perché quando tu dici le cose ti devi assumere la responsabilità di quello che dici la verità ha un prezzo non esiste una verità a basso prezzo la verità fino in fondo ha un prezzo Gesù per la verità sta sulla cruce Giovanni Battista in carcere e sarà poi decapitato quindi forestato Gesù andò nella Galilea ora il Giordano dove Gesù è stato battesato in Giordania dove si trova lì giù quindi da giù Gesù sale e va in Galilea Galilea è al nord Gerusalemme la capitale della Germania qual è? Berlino che sta al nord invece qui all'inverso la capitale sta al sud Gerusalemme al nord della Galilea non era una bella zona perché era la zona confinante con i gentili con i pagani e quindi era una zona diremmo noi di periferia c'era cattiva gente in Galilea c'è Nazareth dove è Nazareth la Madonna riceve l'annuncio dell'angelo e voi ricordate che Luca descrive questa scena Nazareth nella Bibbia non viene mai citata Nazareth come villaggio non esiste proprio e lì in Luca dove inizia Gesù la storia a Nazareth con l'incarnazione del vero Gesù qui dove inizia il suo ministero in Galilea al nord nelle periferie da dove noi non saremo partiti allora in tre versetti abbiamo visto tre modi complessi diversi dalla nostra logica in tre versetti tre logiche diverse rispetto alla nostra Gesù inizia andò in Galilea vi ricordate quando Gesù risorge dirà alle donne di andare a dire discepoli che lo precedono in Galilea inizia in Galilea e dove verrà appuntamento di discepoli in Galilea Galilea come vedremo adesso è dove Gesù ha vissuto vivendo la sua vita quotidiana e ordinaria quasi a dire che dove c'è questo sviluppo di Gesù il suo incontrarlo il suo viverlo il suo testimoniarlo nella vita ordinaria e quotidiana perché in Galilea c'è Cafarnao c'è il lago della chiamata che adesso li vivrà e quindi c'è la quotidianità Gerusalemme quando si parla si parla del Tempio quindi potremmo dire la dimensione della sacralità la Giudea è la quotidianità la Galilea scusatemi è la quotidianità e Gesù parte da lì e ritornerà lì chiederà di partire poi da lì bisogna sempre ripartire dalla Galilea in pratica cioè dobbiamo sempre ripartire dalla nostra quotidianità perché certe esperienze che noi vivremo anche quella dominicale in Chiesa è dominicale poi da quell'esperienza dobbiamo tornare alla quotidianità il Tabor è un'esperienza che si trova anche questo in Galilea è un'esperienza particolare però anche da quella poi bisogna tornare alla quotidianità guai a dire che bello come Pietro non restiamo qui facciamo tre capanne no bisogna tornare sempre alla quotidianità c'è bisogno del momento forte dell'esperienza religiosa del momento particolare ma quel momento esperienza particolare serve per riportarci alla quotidianità e per vivere meglio la quotidianità abitata da quello che abbiamo contemplato da scendere giù nella quotidianità Andoni la Galilea adesso mi è ancora più chiaro pure questo dal Giordano alla Galilea non è che è vicino quindi quando noi leggiamo sembriamo che si è mette in mente no andò puff il piede è già centrato dentro è camminato e nel camminare Gesù tante cose le vedeva tante cose le sentiva tante cose le faceva ecco perché molte volte quando arrivava in un posto già lo sapevano già lo conoscevano perché evidentemente le cose si dicevano un po' come le nostre zone no l'inciuscio c'è sempre stato e quindi chi lette una cosa subito arriva dall'altra parte e quindi anche qui c'è stato certamente è stato così quindi mentre lui camminava dalla Giordana dalla Giordania per arrivare lì in Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino convertitevi e credete al Vangelo quattro frasette che dicono tutti il Vangelo quello che è estrae lo sviluppo del Vangelo sono quattro frasette guardate il tempo è compiuto il regno di Dio è vicino convertitevi e credete al Vangelo ci sono due costatazioni che abbiamo qui il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino sono due costatazioni e poi ci sono questi due imperativi forti avete sentito convertitevi credete al Vangelo il tempo è compiuto tutto quello che è qui tutta questa parte qui finalmente è compiuto perché tutta questa parte qui che noi chiamiamo Antico Testamento è compiuto si è realizzata perché tutta questa parte qui era per arrivare a questo momento noi ascolterremo il canto delle profezie in avvento durante la novena e il canto delle profezie è proprio questo dirà i profeti l'avevano annunciato diceva Paloma dell'attesa prima no allora l'attesa si è realizzata il tempo è giunto al suo culmine si è compiuto il momento è arrivato è il momento decisivo perché? perché il regno di Dio è vicino il regno di Dio è qui perché in Gesù Cristo il regno di Dio si fa presente Gesù Cristo è il regno di Dio vedete come iniziate il Vangelo inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio diciamo anche inizio del Vangelo che è Gesù Cristo figlio di Dio il regno di Dio è che Dio regna è la vita di Dio la vita di Dio questo è il regno di Dio il regno non è il regno umano il regno c'è dove Dio regna Dio regna c'è dove c'è la vita di Dio è dove Dio comunica la sua vita ed è qui tutto ciò che si aspettava adesso finalmente qui si sta realizzando c'è la presenza del regno di Dio allora l'uomo adesso inizia a cambiare con lo sguardo non più così ma adesso è così mi raccomando non abbiamo troppo lo sguardo anche noi perché c'è una scena anche qui vi ricordate quando Gesù ascende al cielo gli angeli dicono perché state a guardare in alto e noi continuiamo a guardare in alto c'è bisogno di qualcuno che venga qui quindi se il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino e quindi la parte che diciamo fa Dio noi adesso l'uomo l'uomo cosa deve fare davanti a questa realtà è convertirsi e credere al Vangelo convertirsi significa cambiare percorso convertirsi a velo etimologico significa tornare indietro dicono gli studiosi per chi guida la macchina è fare conversioni a U così è proprio capite quindi non è semplicemente mi sposto un poco poco oppure qua così un poco poco di là è completamente proprio girare proprio tornare indietro proprio e questa conversione è una conversione che deve essere davanti a questa realtà capite come la stiamo vedendo di questa solidarietà di Dio in mezzo ai peccatori di questo modo di farsi Dio come vuole farsi Dio uomo fragile di carne significa che io devo cambiare il mio modo di pensare il mio modo di agire il mio modo di parlare il mio modo di rapportarmi per poterlo accogliere perché se io continuo a stare con le mie categorie io il regno di Dio anche se qui io non lo accoglierò perché sono due cose diverse il regno qui è l'accoglienza di questo regno fin quando da parte mia non c'è l'accoglienza non c'è la mia parte non c'è la mia libertà la mia disponibilità ad accogliere questo regno non succede niente perché Dio nella sua onnipotenza tutto può c'è una sola cosa violentarci questo non lo può fare non può usare violenza su di noi quindi convertirsi e convertirsi a che azione ha quella di credere al Vangelo e credere al Vangelo attenzione perché noi credere al Vangelo possiamo pensare credo al Vangelo al libro il Vangelo è lui Gesù Cristo quindi credo a Gesù Cristo credere in una persona significa aderire a quella persona se io mi fidanzo fino ad arrivare addirittura al matrimonio vuol dire che di questa persona che faccio mia sposa io aderisco e prendo anche ciò di questa persona cioè la mia vita resta coinvolta e si trasforma in relazione anche a questa persona se io mi sposo e poi dico tu mi fatti per i fatti miei capite non è un matrimonio sarà stato un matrimonio nella forma esterna ma non è un matrimonio non è quell'unione che il matrimonio vuole portare io non ho accolto quella persona il rito del matrimonio dice così io accolgo te come mia sposa e quindi quella persona il suo modo di fare il suo modo di agire comunque coinvolge e stravolge il mio modo di fare il mio modo di agire mentre prima pensavo solo per me adesso da un momento in cui mi sono sposato non posso pensare solo per me ma penserò per me in relazione a quella persona quindi io sarò modificabile nelle azioni nelle scelte che facevo perché un conto è che faceva la scelta da solo adesso un conto è che faccia la scelta il riferimento ad un'altra persona e quando arriveranno i figli sarà ancora diverso non più le mie scelte in relazione a mia moglie ma anche in relazione ai figli ero ateo ero un non credente ero un credente all'acqua di rose andava semplicemente a messa e non passava neanche pagava adesso io ho contato Gesù Cristo allora capite le mie scelte adesso soppartono in relazione a Cristo Gesù e le mie scelte guardate non pensiamo solo alle scelte che possono essere quelle esistenziali mi faccio predi mi faccio suora anche la scelta politica anche la scelta lavorativa anche la scelta che faccio un doppio lavoro anche la scelta che ne approfitto anche la scelta che non metti il grattino nella macchina quando c'è il parcheggio e devo mettere il grattino anche quando vado a fare la spesa e non faccio questa cosa qui anche la scelta di quando vado a mangiare e spendo per una fetta di carne e spendo 25, 30, 40 euro anche queste sono scelte che dicono che sto credendo al Vangelo perché altrimenti se io penso sempre a quelle scelte lì ma quelle non verranno mai o pensiamo alla scelta di Gesù Cristo così faccio un po' e beh poverino ci faccio le mosse faccio le mosse non sono queste è la quotidianità in Galilea perché adesso subito dice passando lungo il mare di Galilea vede Simone Andrea, Fratelli e Simone mentre gettavano la rete in mare che stavano facendo? stavano lavorando avete capito? non è che stavano pregando stavano vivendo si stavano procurando da mangiare è nel mio lavoro convertirmi e credere al Vangelo quello che si fa noi lo facciamo lo dovremmo fare da cristiani qualsiasi cosa che noi facciamo qualsiasi falla da cristiani c'è un'espressione che adesso mi sfugge però era della seconda lettura di domenica scorsa mi pare che diceva così San Paolo noi non dormiamo come gli altri ma perché noi come dormiamo? gli altri come dormono rispetto a noi? cioè un musulmano non dormiamo come noi come dormiamo noi San Paolo dice che noi non dormiamo come gli altri perché per noi la notte dovrebbero chiamarci che cosa? la morte come attesa del Signore quindi noi ci andiamo a dormire a tenere il Signore ecco perché noi non dormiamo come gli altri noi non viviamo come gli altri noi viviamo da cristiani e guardate questo deve essere chiaro viviamo da cristiani se le nostre scelte confermano il fatto che siamo cristiani non è un consiglio perché altrove dirà chi vuole essere mio discepolo chi vuole qui dice convertitevi credete al Vangelo è categorico perché qui è capite? è questo qui è è quello che adesso verrà in seguito sarà tutto questo quello che verrà in seguito non sarà altro che fa presente che il tempo è compiuto è il momento decisivo perché Gesù è presente lì il Regno di Dio è lì quindi allora aderisci per aderire a questo Cristo le tue azioni adesso sono azioni diverse quell'azione che parte dal bene fa il bene e sta nel bene allora capite che come diceva Machiavelli non è vero che il fine giustifica i mezzi non è vero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti